Musica Amici sportivi di Videonola ben ritrovati al trofeo Jack Sfida importantissima che vale il primo posto in campionato Stiamo parlando di Everton contro Real Madrid Che nel primo tempo ha maturato un punteggio di 4-2 A favore della squadra inglese con il Real Madrid Un po' in apnea nella seconda metà di questo primo tempo Proprio l'Everton adesso gestisce il possesso palla Con Pastore che serve buione Ad occhio osserviamo che ambo i quintetti hanno preferito Non effettuare cambi Enzo ne sappiamo qualcosa con la Roma Per quanto concerne i campi effettuati Fra il primo e il secondo tempo di gioco Eh sì, purtroppo Anzi per fortuna ieri non ha inciso sul match Visto che la Roma ha vinto e si è portata a 9 punti Spero che il secondo tempo sarà bello come il primo La pioggia sembra essere diminuita E godiamoci quindi questo secondo tempo Tra la prima e la seconda della classe Intanto notiamo che dall'alto è volato un ombrello Quindi a sensazione Il clima sembra essersi un po' calmato Real Madrid Ancora Real Madrid in avanti Napolitano prova la conclusione troppo alta Non ci sono problemi per Simonetti Che sfoggia una combinazione Maglia fluo, pantaloncini rossi e calzettoni altrettanto granata Buione Profondità con Addeo Clamorosa conclusione che c'entra il legno esterno Intanto Real Madrid che torna in avanti Casalino si trascina la palla in rimessa laterale Giorgio questi sono brutti segnali in vista del provare a recuperare questa gara Bisogna mantenere la tensione psicologica alta Non bisogna sbracciare Ebbè assolutamente Poi se permetti di fare Attenzione qui Brancato si è trovato nel posto giusto al momento giusto Però non ha avuto la freddezza di bucare la porta Bravo Michele Capacchione a sbarrargli subito la strada Ma c'è da dire che il Real Madrid deve affidarsi più al gioco Meno agli individualismi soprattutto quando poi c'è l'ultimo Ovvero il centrale di difesa che porta a palla con il rischio di perderla Lasciando poi sguarnita tutta la difesa con il resto della squadra lì a guardare Sì questa è un'ottima chiave di lettura tecnico-tattica del match Intanto Casalino prova la percussione ma abbiamo alle nostre spalle un calcettista ex-Roma Che conosce bene il trofeo Jack attualmente impegnato con l'Akragas Fabio Buione buona serata Stai anche tu osservando questo match del Real Madrid-Everton? Sì ho sentito che era il big match di Serie A In quanto si affrontano prima e seconda Perché quest'anno non partecipo alla Serie A quindi l'ho seguita poco e niente Però questa partita mi ha attratto particolarmente Mi sono fermato qui a vederla dopo aver giocato di là insomma con la Serie B E' sicuramente uno spettacolo interessante Fabio un pronostico secco da parte tua? Riguardo alla partita dici? Sì sì Poi che penso che individualmente sono superiori Poi magari può essere che Real Madrid cacci qualche jolly E straga con il cosiddetto coniglio dal cilindro E poi magari possa quantomeno pareggiare anche se la vedo difficile E vedremo come si evolverà il match Intanto il Real Madrid prova ad aumentare la pressione Ma palla che termina fuori Non riesce a trovare delle conclusioni importanti verso lo specchio di porta Il collettivo spagnolo Ci prova invece Brancato che si sblocca così Enzo raccontaci questo gol Bel gol di Brancato L'avevo preannunciato Poteva fare la differenza Oggi che è tornato non al 100% Ma meglio sicuramente delle altre volte In cui si sentiva ancora appesantito Un bel gol quindi Brancato Importante soprattutto che adesso Quindi la squadra inglese allunga Le distanze I gol di svantaggio per il Real Madrid sono 3 Giorgio Brancato non è al 100% Ma sicuramente anche l'1% è meglio dello 0% Quindi sta facendo qualcosa di interessante Vediamo intanto Pastore che riparte Ancora Leverton che sembra avere la giusta tensione mentale Lo trasmette alle gambe per questa sfida Si riparte da una rimessa laterale per il Real Madrid Sì, Giuseppe Brancato non sta facendo rimpiaggere il numero 9 Il suo compagno di squadra montagnolo Che aveva aperto le danze nel primo tempo Adesso è stato lui nel secondo tempo Ad aprire i giochi, nuovamente i giochi Ancora vantaggio dell'Everton Adesso la risposta del Real Madrid Con un paio di conclusioni sbiellate C'è bisogno di più C'è bisogno di fare qualcosa in più Mentre il punteggio finora è di 5 a 2 Brancato Attenzione, termina così In questo caso un dribbling degno da Vaico Liscio Purtroppo anche a causa del campo umido E subito arriva mister Marco Ciavoli A galvanizzare il suo calcettista Intanto si riscalda una presenza importante Un autentico pezzo da 90 del Everton Ma abbiamo il gol di Napolitano Che potrebbe rendere questo riscaldamento inutile In quanto torna a farsi sotto il Real Madrid 5-3 adesso Buona la girata a porta di Napolitano Sì, è stato molto bravo in un fazzoletto di campo Di prima intenzione se non sbaglio È riuscito col destro ad incrociare E assegnare un gol importante per il Real Madrid Adesso sono due le lunghezze dall'Everton Che per ora la sta portando a casa Pastore, la conclusione del gol Del 6-3 E adesso torna a riscaldarsi Pendolino Ruggero Per un attimo si è fermato Eh sì, Giovanni Ruggero il 10 Ricordiamo dell'Everton Può tornare a riscaldarsi Speriamo di vederlo scendere in campo in questa super sfida In cui abbiamo appena assistito a un super gol di Pastore Direi il solito Pastore Giando E adesso i gol di svantaggio sono di nuovo tre Attenzione rischia di andare pericolosamente sotto il Real Madrid Qui Marco Adeo è stato molto impreciso nella sua conclusione Poco male per il Real Madrid Un Real Madrid che a volte riesce a proporsi efficacemente in avanti Ma è un po' troppo fragile Annunziata Annunziata tiene la palla in campo ma diventa buona solo per Buione Casalino ottimo l'intervento qui Può ripartire la squadra in maglia Granata Palla che resta a metà strada Scusate con la compagine divisa in due tronconi Tutto ciò fa il gioco favorevole all'Everton Palmieri per Annunziata Casalino Napolitano La conclusione non va Ribattuta Rimessa laterale con Palmieri che combina la frittata Serve la palla agli avversari Ma la sfera termina è rimessa laterale in virtù del fatto che ha toccato la parte superiore della rete Di protezione del campo Annunziata alza un lancione molto brutto Soprattutto Giorgio un lancio del genere diventa spesso inutile quando si gioca in un campo a dimensioni ridotte come questo Ma questo un po' denota la mancanza di idee del Real Madrid Mentre qui una conclusione di Buione si spegne a lato Mancanza di idee, mancanza di fantasia giocano un po' per conto loro I ragazzi del Real Madrid c'è bisogno di qualcosa in più decisamente Anche questa trama di passaggi è già qualcosa di meglio rispetto a serpentine solitarie senza uno scopo Intanto c'è un fischio arbitrale Fallo Calcio di punizione in seconda per il Real Madrid Ci sarebbe bisogno di un lampo di gioco che possa illuminare la sfida Ferma sul punteggio di 6 a 3 Palmiero, la conclusione Cosa è successo? Una parata Davvero una gran parata questa di Simonetti Napolitano prova la conclusione, non riesce a coordinarsi efficacemente Intanto Pastore, d'esperienza Fa ribattere la palla su un avversario Guadagna una rimessa laterale Brancato, contro Palmieri ancora Brancato Guadagna un calcio di punizione Ripresa sostanzialmente corretta con Le due squadre che solo adesso hanno compiuto il primo fallo Buione Annunziata, palla che termina in rimessa laterale Adeo Pastore Ottimo il movimento di Adeo che è solo ma neanche tanto In quanto il suo avversario era proprio alle spalle Inizia a rendersi anche più fredda questa serata Palla lunghissima Una fase di stanca del match Che Vede le due squadre Rifiatare Per qualche istante Forse in attesa del rush finale Adeo Prova il tiro Diviato da un paio di avversari Annunziata il lob per Napolitano Che viene ricacciato all'indietro Rimessa laterale Rapidamente battuta Napolitano per Palmiero La conclusione era soterra Velenosa ma Era lì a presidiare la La staffilata verso lo specchio di porta Simonetti che Compagna la sfera in Rimessa Dal fondo Si riparte adesso Pastore Buione Palla che termina fuori Mentre Noto un po' di chiacchiericcio Sulla panchina del Real Madrid Giorgio Stavo cercando di capire anch'io Se fosse un malumore O semplicemente un ripasso Delle tattiche Tutto regolare Sulla panchina dei Granada Forse ma Forse nei prossimi minuti Giando ci sarà un cambio Vedremo come Si evolverà La strategia Del Real Madrid Entra qui Buione per Pastore Nuovamente Buione Montagnolo Palla che Termina alta Si riparte da Un fallo di fondo Ancora il Real Madrid Dai piedi di Palmieri Napolitano Conclusione Ribattuta Calcio d'angolo Per il Collettivo Spagnolo Che prova così Ad aumentare un po' La pressione Alla ricerca di Golli importanti Per restare Sulla linea di galleggiamento E infatti Il calcio d'angolo Finisce male Si riparte da Una rimessa in gioco Per l'Everton Pastore Buione Per Addeo Il Lob non si rivela Efficace Napolitano Prova A tenere in campo La sfera Se la Trascina lontano Intanto Montagnolo Ancora lui Il numero nove Del Che fa del fisico La sua qualità Principale Riesce a tenere in campo La sfera Qui Il Real Madrid Guadagna una rimessa Laterale Con Annunziata Che Serve Annunziata Palmieri St'affilata centrale Non riesce a concludere Verso lo specchio di porta Napolitano Addeo Conclusione In scioltezza Destro Sinistro Addeo Molto forte con ambi i piedi Ma tuttavia stavolta Non c'entra lo specchio di porta Montagnolo Si ferma Va in Superiorità Offensiva Il Real Madrid E qui è stato molto grave Il gesto di Montagnolo Che si è totalmente Fermato Ha concesso il gol agli avversari Forse Per presunzione O più semplicemente Per stanchezza Il numero 9 Il bomber Dell'Everton Non ha partecipato Alla manovra difensiva Fatto sta che il Real Madrid Accorcia le distanze È chiamato Un time out Ma Giando Devo osservare Che nell'azione precedente Al gol Sul bel pallone Messo in mezzo Dal numero 11 Del Real Madrid Napolitano È arrivato con i tempi giusti Fonse In scivolata Il suo diretto Marcatore Però L'arbitro Caruso Non ha fischiato Time out Per Questi ultimi Minuti Che ci separano dal triplice fischio Una Sera bagnata E vedremo per chi si rivelerà Una sera fortunata Finora non C'è stata un'abile reazione Da parte del Real Madrid Dal Dominio Everton Punteggio di 6-4 A favore dell'Everton Mentre riprende il gioco E c'è un fischio arbitrale A favore dell'Everton Calcio di punizione Sul punto di battuta C'è Montagnolo Due uomini in opposizione Sistemati in barriera Da parte di Capacchione Conclusione Capacchione c'è Interessante Questo tiro Calcio d'angolo Montagnolo Spalla alla porta Che adesso Vuole farsi perdonare L'errore precedente Palmieri Palla che termina Rimessa Laterale Sul Ripartenza Del Real Madrid Ruba la palla Napolitano E riapre Ufficialmente L'incontro Gol del 6-5 Una bellissima conclusione Forse il primo errore Defensivo di Pastore E subito arriva La punizione Da parte dei calciatori Madri-Leni Sì un passaggio strano Per Pastore Troppo corto Troppo debole Forse anche il campo Bagnato Ha penalizzato Questo passaggio Fatto sta che qui Arriva subito La risposta Dell'Everton Con Montagnolo Ancora un 1-2 clamoroso Come nella prima frazione Di gioco Che aveva assistito A gol l'Everton E risposta Real Madrid Stavolta Fa la prima mostra Il Real Madrid E la risposta Suona in lingua inglese Proprio come nel primo tempo Sta ricominciando Anche a piovere Questa pioggia Coincide proprio Con il momento In cui Le due squadre Danno il meglio Prima il gol Di Napolitano Approfittato Di questo passaggio strano Dicevamo a Pastore L'anticipato Si è messo il pallone Sul destro E ha scagliato Un tiro potentissimo Sul secondo palo Dove Simonetti Nulla ha potuto Sull'azione precedente E sull'azione successiva Montagnolo Mentre qui Lo stesso Montagnolo Sprega un gol clamoroso Mandando il pallone Di poco Alla sinistra Del portiere Partita Giando velocissima Ci sono errori Da una parte e dall'altra Adesso c'è calcio d'angolo Per l'Everton Sì Calcio d'angolo Dell'Everton Un attimo di pausa In una partita Da ritmi molto serrati Attenzione Palla che balla All'istro L'enna di porta Poi annunziata Pensa a sparacchiare Più lontano che può Precisamente La palla termina Rimessa a laterale Per il Collettivo In maglia blu Buione Palla per Montagnolo Frontato da Palmieri Scontro Bello Fisico Questo termina a terra Montagnolo Un fischio arbitrale Per segnalare Per segnalare il fallo Fatto dal Real Madrid Calcio di punizione Da posizione molto defilata Quasi un corner Per Per Leverton E la palla termina in Rimessa dal fondo Time out Per il Real Madrid Volevo un attimo Concludere Sul gol Di Montagnolo E' riuscito A fare Perno Sul Diretto Marcatore Si trattava di Annunziata Si è involato Verso la porta E col destro Abbattuto Capacchione Una partita Davvero scoppiottante E' un time out Che ci sta Per Concentrare Le ultime energie Psicofisiche Su I rispettivi Obiettivi Per quanto riguarda Leverton Chiaramente mantenere Il vantaggio Sarebbe poi Una vittoria Fondamentale Per il discorso Campionato Mentre per il Real Madrid Cercare almeno Di arrivare Al pareggio E poi Dopo il pareggio Chiaramente le due squadre Resteranno poi Appaiate A pari punti E il resto Il proseguito Il resto e il proseguito Del campionato Deciderà di fatto Le sorti Di questa sesta stagione Della Serie A Emozioni diametralmente Opposte Una parte e dall'altra Come si vivono Questi ultimi Quattro minuti Enzo Di una sfida del genere Una sfida bellissima Sembrava Essersi spenta A un certo punto Ma Si è accesa In un amen Un ottimo napolitano Per il Real Madrid Ha portato A soli due Le lunghezze Di distanza Tra le due squadre E ci apprezziamo A vivere questi Ultimi minuti Del match Che sicuramente Saranno scoppiettanti E speriamo Piene di emozioni E sarà sicuramente Uno spettacolo Fantastico Per gli spettatori Di Videonola Mentre Pastore Prova A portare Il suo Secondo sigilo Personale Al match Ma Il Real Madrid Resta A galla Rimessa laterale Ancora Pastore Tiene la palla In campo Addeo Per Montagnolo Trova Uno spiraio E Buca Allo specchio Di porta Di Capacchione Punteggio Di 8-5 Adesso Potrebbe rappresentare Il gol Che segnerà Definitivamente La gara Si manca davvero Pochissimo Alla fine Di questa Bellissima partita Dove le due squadre Si sono espresse Al meglio Mentre qui Appena entrato Giovanni Ruggero Maglia numero 10 Per lui Anche se Non in vista Questa sera Spende il suo fallo Personale Su Felice Napolitano Che in maniera Elegante Si era Inserito In area di rigore Quasi in area di rigore Scartando un paio di loro Ed autentico Bad boy Giovanni Ruggero Si presenta così Alla sfida Intanto Napolitano Prova il tiro a giro Un po' troppo Vezzoso Per un portiere Come Simonetti Addeo Ancora uno scatto In profondità Premiato da Simonetti Arriva il calcio d'angolo Mentre sopraggiunge Anche il numero 10 O meglio Col numero coperto Giovanni Ruggero Pastore Palla centrale Palla centrale Destinata a Ruggero Che non si rivela efficace Intanto Giovanni Napolitano La grande pressione di Ruggero Permette ad Addeo Di rubare palla Rimessa laterale A favore dell'Everton Sta Portando un impatto Alla partita Devastante Giovanni Ruggero Sì Ottimo ingresso il suo Ricordiamo È pur sempre Il numero 10 Dell'Everton E anche fondatore Della squadra inglese Scusami Giando Volevo fare un appunto Prima avevamo nominato Addeo MVP Non me ne voglia Il caro amico Addeo Ma Montagnolo Ha veramente fatto Fino adesso La differenza oggi Il numero 9 Veramente Ha impresso Una Firma Importantissima Quasi un'ipoteca Su questa sfida Mentre prima Giovanni Ruggero Ha letteralmente Divorato un gol Già fatto Scontro Fra numero 10 Giovanni Versus Giovanni Con Napolitano Costretto a ripiegare Verso Capacchione Ora Palmieri Palla in profondità Un po' troppo lunga Per tutti Quindi Si riparte Dalle tranquille E grandi mani Di Simonetti Un po' pericolose Quelle mani I calcettisti Dell'Everton Non lo sanno bene Tanto Passore Senatore Di questa squadra Che non ha Abbandonato Nemmeno per un minuto Il terreno Di gioco Proprio Passore Si prodiga Nell'ennesimo Dribbling E ha anche il tempo Di complimentarsi Con Ruggiero Tanto Palmieri Pastore 4 contro 0 Attenzione Clamoroso Ma Adeo Spreca Questo possesso Solo 120 secondi Al termine Di questa sfida Palmieri Trova una buona girata Che però Non c'entra Lo specchio di porta Sovraggiunge Anche un po' Di stanchezza mentale Adesso Con I calcettisti Del Real Madrid Che non ci credono più Invece L'Everton Continua a correre A mille all'ora Palmieri A tu per tu Con la porta avversaria Arriva il gol Che vale Il punteggio Di 8 a 6 Questo è un gran gol Giando Di buona fattura Forse si è svegliato Troppo tardi È un peccato Perché il Real Madrid Ha sicuramente I giocatori Per competere Per fare bene In questa sfida Però È mancata La lucidità Nei momenti chiave Buon per l'Everton Chiaramente Che Vede Lo scudetto Cuscirsi Sulle proprie maglie Palla che termina In rimessa laterale Dovrebbe Battere Sì Proprio il Real Madrid Palmieri Solo contro 3 4 Addeo La mette poi In calcio d'angolo Palla che Centra Una persona In panchina Cambio battuta Questo potrebbe Rappresentare Un importante Turning point Della partita Casalino Non va Ruggero Prova a tenere La palla in campo E Per sua sfortuna C'è l'arbitro di mezzo E non riesce Nel suo intento Napolitano Annunziata Palla un po' Troppo corta Addeo Sbraccia addirittura Il compagno di squadra Che non gliele manda a dire E su questa Ultima pagina poetica Termina La partita Punteggio di 8-6 Everton Raggiunge Quota 28 punti Ebbè Gianto L'abbiamo detto In cronaca Questa è una vittoria Importantissima Per l'Everton In caso Di Mancata Vittoria Di questo Campionato Si potrebbe parlare Di suicidio Ma io Ripeto Lo scudetto Si può ritenere Già cucito Sulla maglia Dell'Everton Grazie anche a te Enzo Grazie a voi Lo spettacolo Oggi è stato Veramente Eccezionale Bellissima La partita Che ha visto Tiron fare La squadra Inglese Ha giocato Secondo me Nettamente meglio Del Real Madrid Solo Napolitano Ha acceso Un po' La partita Per la squadra Madrilena E niente Come ha detto Il mio amico Giorgio Anche per me Lo scudetto Può definirsi Cuscito Sulla maglia Dell'Everton A questo punto Punteggio finale Everton 8 Real Madrid 6 E quindi Primo posto E probabilmente Scudetto All'Everton Siamo qui In compagnia Dell'Everton Una squadra Che ha raggiunto Quota 28 punti A seguito Dello sconto diretto Con il Real Madrid A farci compagnia Ci sono Ruggero Brancato E Capitan Buione Partiamo proprio Da Giovanni Ruggero Questa partita Molto importante Sotto la pioggia Nonostante tutte le intemperie Nonostante le difficoltà Sono arrivati tre punti Per l'Everton E adesso Lo scudetto È molto più vicino Sì Dobbiamo dire Che questa era una partita Quasi fondamentale Per il campionato Perché comunque Entrambi in vetta La classifica Adesso con tre punti in più E con lo sconto diretto A favore Che quindi Sono quattro punti Di differenza Abbiamo Non voglio essere Scaramantico Anzi Voglio essere scaramantico Una micia nera Però Il campionato È sempre più vicino Il campionato Sempre più vicino Brancato C'è da dire Che è stato fatto Un bel regalo A Marco Ciavoli Che è un po' infortunato Non può giocare Ma intanto Il suo compleanno Alla mezzanotte Sono arrivati tre punti Anche grazie a un tuo goal Quindi diciamo che C'è gioia per tutto l'Everton Direi che i maggiori meriti Di questa vittoria Me li devo prendere Sicuramente io La modessia È sempre Il mio Principale Diciamo La mia principale caratteristica E Non avevo la bottiglia Ha detto Sì Non festeggiava il compleanno Comunque Mi prendo questi meriti Perché finalmente Sono ritornato al goal Offerto una prestazione Super Direi Sicuramente Al di sopra Anche dei Ben noti pastore Buione Addeo Imparagonabili Stasera Alla mia prestazione E Direi che finalmente Ci siamo sbloccati Per portare Così Un ulteriore Contributo Alla squadra Per le prossime partite E chiudere Definitivamente Il campionato Vorrei fare anche I complimenti Comunque al Reale Che fino all'ultimo Ha comunque Ci ha messo in difficoltà Si deve dire Sì Un Reale Che nonostante tutto È sempre una squadra arcigna Oltre alla modessia Come tua caratteristica principale Direi anche il cappellino nero Ormai Onnipresente Ma perlomeno L'azienda Ti fornisce altri cappelli Ti paga Per questa sponsorizzazione Molto forte Da parte di una personalità Come te Ovviamente Sì E purtroppo Questo è merchandising Giocatori di un certo livello Sono costretti A pubblicizzare Certi capi di abbigliamento E In quanto tale Io faccio lo stesso Brancato Sì Brancato passa come giocatore Di un'altra categoria Proprio al riguardo Vorrei far Esprimere un pensiero Capitan Buione Che forse deve Chiamare A raccolta Questo giocatore Deve un po' invitarla Ad essere seriamente Più modesti A volare basso Perché il campionato È ancora lungo Bisogna fare ancora Tante altre vittorie Sì Sicuramente Il campionato È ancora lungo Gioceremo Ogni partita Come questa Di quella Come quella Di questa sera Anche perché Ogni partita È una storia Sì Non bisogna mai Sottovalutare L'avversario Per quanto riguarda Il comportamento Di Peppe Peppe è il nostro Ibra Può fare di tutto È il nostro Jolly Quindi Gli è permesso Tutto Volevo fare Comunque I miei complimenti Ai ragazzi Del Real È stata una Bellissima partita Ci siamo divertiti È una partita Corretta Ah e volevo Comunque ricordare Il primo gol Con la maglia Dell'Everton Dopo tanti anni Di Peppe è brancato Quindi gli è concesso Tutto questa sera Beh direi che Come senza Ibra Non esiste il calcio Senza me non esiste Il trofeo jack Più o meno È questa Applausi per queste Dichiarazioni Io direi che Se è vero che Senza questa gente Non esisterebbero Calcio Trofeo jack Eccetera Senza Giovanni Ruggiero Non esisterebbe l'Everton Che finora Sta raccogliendo Dei risultati interessanti A questo trofeo jack Sì sì Diciamo che io sono stato Il fondatore dell'Everton Ma quest'anno Il presidente È Pauletto E sta facendo Questa vittoria E tutta Questa vittoria Di questo campionato Se viene È tutto È tutto per lui Una Una È tutto per l'Evertono È tutto per l'Evertono È tutto per l'Evertono È tutto per l'Evertono È tutto per l'Evertono